Puntare sul potenziamento dell'organico per conservare il presidio e sulla proroga di un anno chiesta al governo, questo in sintesi risultato della riunione dei capigruppo consigliari, allargata anche le senatrici Paola Pelino e Stefania Pezzopane e all'assessore regionale, l'area interna Andrea Gerosolimo, che si svolta ieri nell'ufficio del presidente del Consiglio Comunale, Katia Di Marzio. Assente per impegni istituzionali, il sottosegretario della giustizia Federica Chiavaroli. Nel corso dell'incontro i capigruppo, a Tupertù con le senatrici e l'assessore, hanno ribadito la necessità di tutelare il presidio della polfer, puntando sull'aumento della pianta organica dalle 2 alle 6 unità lavorative. Arriva l'ok anche per la richiesta di proroga di un anno, annunciata dalla senatrice Pelino nel corso della manifestazione alla stazione ferroviaria e condivisa dai capigruppo. Entro la metà di marzo il tavolo si riaggiornerà per verificare le intenzioni del governo e per intraprendere tutte le iniziative volte a salvaguardare i posti di polizia ferroviaria, primo scalo in provincia dell'Aquila e secondo nella regione Abruzzo.